Sei campani che andranno al Parlamento europeo, ma potrebbero diventare sette. In caso di rinuncia di Mimmo Lucano, infatti, potrebbe subentrare Francesco Emilio Borrelli per l'Alleanza Verdi e Sinistra. Lucia, annunziata del PD, candidata nella circoscrizione Sud, l'ex giornalista Rai ha conquistato 241.120 voti. Nata a Sarno, è stata per 30 anni volto del giornalismo italiano in TV, presentando nel corso del tempo programmi di inchiesta come Linea 3 ed In Mezzora, e speciali del Tg3 riguardo importanti fatti di politica internazionale. Tra il 2003 e il 2004, prima di dimettersi, è stata anche presidente della Rai, capolista del PD al Sud. Il coinvolgimento in politica arriva dopo le dimissioni dalla Rai consegnate nel 2023 a causa di apparenti divergenze d'opinione dovute alla direzione presa dalla rete ammiraglia dopo la discesa al governo di Giorgia Meloni. Raffaele Topo, del PD, l'ex sindaco di Villaric, arriva a 127.653 voti. Anche lui, candidato nella circoscrizione Sud per il PD, è stato fin da subito definito l'outsider delle elezioni europee 2024. Terzo più votato del partito al Sud, alle spalle dei ben più celebri Antonio De Caro e Lucia Annunziata, Topo è stato sindaco di Villaricca per nove anni, dal maggio 2001 a luglio 2010, diventando poi deputato dal 2018 al 2022. Pina Picerno, del PD originario di Santa Maria Capoavetere, già europarlamentare dal 2014, ha ottenuto 121.820 preferenze. Nel 2008 viene eletta la Camera dei Deputati tra le liste del Partito Democratico, diventando deputata. Nel 2014 è capolista per la circoscrizione Sud alle Europee, conquistando un posto a Strasburgo dove nel 2022 viene eletta tra i 14 vicepresidenti del Parlamento Europeo. Sandro Ruotolo, del PD, storico giornalista Rai Ruotolo, ha ottenuto 112.399 preferenze, eletto come senatore della Repubblica tra il 2020 ed il 2022. Dal 1988 ha iniziato una lunga collaborazione con Michele Santoro, che lo ha portato a diventare caporedattore in Rai. Fulvio Martuscello, di Forza Italia, l'ex assessore alle attività produttive della regione Campania, della Giunta Caldoro, ha ottenuto 97.566 preferenze. Candidato nella circoscrizione Sud, Martuscello è già europarlamentare per Forza Italia dal 2014 e capodelegazione del partito a Strasburgo del 2022. Alberico Gambino, fratelli d'Italia, l'ex sindaco di Pagani, eletto nel 2022, ha ottenuto 92.125 preferenze. Fedelissimo del vice ministro agli affari esteri Edmondo Cirielli, di cui è capo della segreteria La Farnesina, Gambino è stato implicato e poi assolto nel processo Linea d'Ombra, un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Salerno concentrata sull'esistenza di un sistema Pagani che avrebbe avuto come riferimento l'ex sindaco intento a favorire clan Fezza Dauri a Petrosino. Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi e Sinistra, conferma il lavoro fatto e conquista 49.238 voti, diventando il secondo più votato nella circoscrizione sud dell'Alleanza Verdi e Sinistra alle spalle di Mimmo Lucano. Da anni impegnatissimo nel raccontare e combattere a favore della legalità, il posto di Borrelli a Strasburgo è legato alla decisione del sindaco di Riace, il quale dovrà scegliere quale collegio rappresentare. Nel caso in cui optasse per altre circoscrizioni, il deputato napoletano potrebbe essere il settimo campano ad occupare un banco nell'Europarlamento.